Mi chiamo Gabriella Pollaci e in Snam ricopro il ruolo di tecnico di processi di dispacciamento. Mi sono laureata in Ingegneria Energetica e Nucleare e in seguito ho conseguito un Master in Energy Management. Concluso il mio percorso di studi ho avuto l'opportunità di entrare in Snam, dove ho trovato fin da subito un ambiente stimolante e accogliente. Come dicevo, lavoro nell'area di dispacciamento e misura, che garantisce il controllo e il monitoraggio del sistema di trasporto e stoccaggio. Ho lavorato nel team che gestisce le previsioni della domanda gas, basandosi sull'intelligenza artificiale, e adesso lavoro nel team che si occupa della programmazione operativa, ovvero che gestisce la pianificazione degli interventi sul sistema di trasporto. In Snam ho trovato fin da subito una rete di persone che lavora senza mai perder di vista l'importanza che dà la condivisione. Sono tante le iniziative esterne, come Ingegneria Femminile, che Snam supporta con l'obiettivo di sostenere le giovani che decidono di studiare delle materie STEM. E tante sono anche le iniziative interne, volte a migliorare l'empowerment femminile e i relativi percorsi di carriera.